Buona giornata dal telegiornale della Sette, una giornata che iniziamo nuovamente con gli occhi puntati su quello spicchio di mare di fronte all'isola del Giglio, 20 mesi dopo il naufragio della costa Concordia che costò la vita 32 persone. Gli occhi del mondo sono di nuovo puntati lì, un'operazione a lungo studiata nei minimi dettagli per raddrizzare il relito. Si è iniziato stamattina, cerchiamo di capire a che punto sono le cose, dunque ci colleghiamo in diretta con la nostra inviata. Antonella, come stanno andando le cose e a che punto siamo? Sì, buongiorno Cristina. Dunque l'operazione è iniziata con qualche problema stamattina, ma di questo vi faremo vedere tra poco. Vi volevo subito dare le ultime notizie che ci sono state riferite durante l'ennesimo briefing della mattinata. La costa Concordia, secondo i tecnici, ha già ruotato di 3 gradi. Sappiamo che per poterla vedere in posizione verticale alla fine dovrà ruotare di 65 gradi. Finora in questa prima fase non ci sono stati sversamenti in mare di sostanze inquinanti e questa è una buona notizia. Non ci sono stati problemi, ma c'è un ma. Perché il capo della protezione civile, Franco Gabrielli, durante questa ultima conferenza stampa, ha la domanda se il momento più rischioso è superato. Ci ha risposto che il momento rischioso durerà 12 ore, che è il tempo previsto per l'intera operazione. Quindi sempre in stato di allerta e poi un'altra notizia negativa. Finora la parte sommersa della costa Concordia nessuno l'aveva potuta vedere. Ora, da quando si è staccata dalle rocce, e questo è accaduto intorno alle 12, le telecamere sommerse hanno notato una deformazione nella parte sommersa. Quanto questa deformazione possa in qualche modo compromettere le fasi successive della giornata, quello che potrebbe accadere nelle prossime ore, ancora non lo sappiamo.